come potete vedere amici di ciocomo qui al piadotto dei lavatoi la barriera il jersey d'ingresso è anche ancorato come potete vedere con dei pezzi di con il cemento quindi è stato praticamente bloccato per evitare il passaggio soprattutto dei tir ciò nonostante come avete visto il tir di questa mattina un tir di una ditta piemontese è passato ugualmente rompendo poi l'asse e fermandosi proprio qui in questa posizione dove lo vedete in questo istante